Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio canale. Oggi non ci troviamo in garage per fare video degli utensili, non ci troviamo nel laboratorio dove ho gli incisori laser per fare video sull'incisorio, sulle stampe 3D e non ci troviamo nella stanza del PC. Ci troviamo per la prima volta, sicuramente anche l'ultima, in camera da letto per un motivo particolare, perché vi voglio raccontare una dipendenza che ho. Ve la faccio subito vedere, la dipendenza in questione è quella per l'abbigliamento Parkside. Ed effettivamente mi rendo conto di aver perso un po' il controllo. Perché voglio fare questo video? A breve usciranno nuovamente i pantaloni della Parkside. E ho detto a mia moglie, amo, se passi alla Lidl, che poi il se passi è per favore passaci, mi puoi comprare i pantaloni quelli neri taglia 50? Mi è arrivato un messaggio audio che non vi faccio ascoltare, dove mia moglie, utilizzando per il 90% insulti e per il 10% parole normali. Mi ha, in modo sintetico, mi ha detto Ma vedi che tu hai almeno 20 paia di pantaloni e c'è l'armadio pieno di pantaloni che non usi. Non può essere, non è vero, io c'ho solo questi che si stanno rompendo. Ecco perché sto facendo questo video, perché sto mandando in pensione il primo paio di pantaloni della Parkside comprato 3 anni fa. Ora ve lo racconto. A parte il fatto che è un video scherzoso, però vi voglio far vedere tutta la tipologia di pantaloni, non abbigliamento, tutta la tipologia di pantaloni Parkside. E darvi un solo consiglio per l'acquisto. Perché alla fine il consiglio è uno. Vi faccio vedere quello che ho comprato da quando conosco Parkside. Allora ragazzi, prima di farvi vedere nel dettaglio questi pantaloni e perché ne ho così tanti, vi dico semplicemente che io sono un tipo che, oltre a questo, forse nell'armadio dei vestiti puliti, diciamo, buoni per uscire, avrò forse un paio di jeans, forse, se non ricordo male ho un paio di jeans e forse un vestito per l'occasione, il matrimonio dell'amico, la cresima, vestito che comunque è sempre abbastanza sportivo. Quindi io non sono un tipo molto esigente dal punto di vista dell'abbigliamento. Se mi sta bene, se mi sta comodo, il resto a me non interessa. E infatti perché c'ho tanti pantaloni e tanti li vedete usati ma in perfetto stato? Perché certe volte io preferisco uscire, per esempio con questi, quando esco con la moto con Super Tenerè, a sbrigare commissioni in città, io mi metto questi pantaloni qua. E certe volte quando vado al lavoro, anzi ormai sempre quando vado al lavoro, indosso gli ultimi che vedete di là, quelli neri, che sono quelli felpati. E sono pantaloni da lavoro, questi qua sono quelli felpati che io non utilizzo, cioè io che ho comprato effettivamente per usarli durante il lavoro esterno, quando fa freddo. Ma che sto cercando di tenerli più puliti possibile perché sono spettacolari. Ora ve li faccio vedere nel dettaglio. Naturalmente ci sono anche questi qua che indosso. E perché ne ho così tanti? Che quando comprai per la prima volta questo modello qua, a poco prezzo, non mi ricordo, forse a 12,99, ho portato, sono arrivato a casa, l'ho provato, ho sbagliato la misura, sono andato di nuovo alla Lidl, ho preso l'altra misura, non era buona, sono andato di nuovo alla Lidl, ho preso un'altra misura. E ora il consiglio riguarda le misure, il consiglio che vi darò nel video riguarda le misure. Quando ho visto che stavano bene, che comunque le tasche, le cose, tutto bello comodo, qui ci sono le tasche per poter mettere i cuscinetti per le ginocchiere, ho detto vabbè ma 12,99 sicuramente dureranno, come diciamo noi in Sicilia, ma probabilmente anche voi che state vedendo questo video, dureranno da Natale a Santo Stefano. Quindi anche se durano 6 mesi a 12,99 a me va bene, per me va bene. Quindi sono andato subito e ho comprato l'equivalente di questo modello nero, che è quello che sto indossando ora. Appena sono usciti gli altri sono andato a comprare l'altro modello, questo qua, che è un modello leggermente diverso. E poi vi è di seguito tutti gli altri modelli che ora vi faccio vedere. Quindi il motivo per cui me ne sto trovando così tanti è perché avevo dato veramente pochissima fiducia a questi pantaloni, ma effettivamente sono spettacolari, materiali resistenti, comodi e vi devo dire il consiglio, ve lo dico subito prima che lo dimentico. Pur essendo tutti la stessa misura, vestono in modo diverso, pur essendo tutti la stessa misura, pur essendo tutti marchiati Parkside, vestono in modo diverso in base al periodo in cui li ho comprati, in base alla serie. Ad esempio, questi due li ho comprati insieme, sono i primi due in assoluto che ho comprato e hanno una vestibilità. Soprattutto io non prendo la 50 per esempio per quanto riguarda l'abbigliamento, io per quanto riguarda l'unico o forse il due paia di jeans che ho, se non sbaglio quello elasticizzato è 46, l'altro, quello che è più comodo perché a me non piacciono le cose attilate è 48, che è quello che utilizzo in moto perché così quando mi siedo in sella non mi stringe la pancia. E questi sono tutti 50, però da modello a modello cambia tantissimo. Ad esempio il 50 che ho preso per fare i lavori di giardinaggio, e ora vi spiego perché per fare i lavori di giardinaggio, mi sta piccolissimo, questo non riesco a tenerlo col bottone chiuso, ma è sempre 50 ed è sempre Parkside. Infatti ecco il consiglio che vi volevo dire, quando andate a comprarli, anche se già avete qualche pantalone e lo volete comprare, come ho fatto io per esempio per tenerlo di scorta, provatelo ugualmente, perché magari ad esempio questo modello sicuramente avrei preso la 52, e c'è qualche altro modello 50, se non sbaglio quello lì felpato, che aveva preso una 48, però siccome io quando li ho comprati mi sono affidato alla misura di questo, che è il primo, li ho conservati e possibilmente li ho utilizzati dopo mesi, e non ho fatto in tempo a cambiarli. Perché giardinaggio? Perché a me non mi piace lavorare quando faccio lavori alle moto, sia dal punto di vista personale sia anche per il discorso dei video, con le macchie di cemento sui pantaloni, quindi io mi ritrovo ad avere tre serie di pantaloni in base al lavoro che devo svolgere. Lavori di meccanica e sono tutti questi qua, colore grigio, colore nero, e anche i pantaloncini, colore grigio e colore nero. Lavori di giardinaggio, ho questo qua di colore marrone, e ho anche i pantaloncini di colore marrone. Lavori di muratura, color beige, infatti come vedete c'è vernice e cemento attaccata, e dovrei avere da qualche parte, ma non trovo, anche i pantaloni di questa serie di colore beige. Poi la cosa bella è che abbinati ai pantaloni sono usciti le salopette, sono usciti i giubbottazzi, i giubbotti con le maniche smanicabili, le felpe che hanno all'interno, i gilet in pile, quindi si riesce a fare un bel abbigliamento di lavoro, anche esteticamente simpatico. E come vi dicevo, siccome io li utilizzo anche per uscire, se io devo uscire ad andare a comprare il pane, mi levo quelli sporchi, quelli proprio rovinati, mi metto quelli più puliti, e vado a comprare il pane, perché li trovo estremamente comodi. Allora, vediamo nel dettaglio, anche perché il video sta durando troppo, alcune caratteristiche. Allora, questo modello lo sto mandando in pensione, perché dalla parte del cavallo, che è quella che sfrega camminando, e questa fa capire per quanto tempo li ho utilizzati, si è consumato. Dice, vabbè, ma ci può mettere una toppa? Sì, far mettere la toppa alla sarta possibilmente mi costa 5, 7 euro, 8 euro, però il problema è che il tessuto qua è proprio sottile sottile, e lo riesco a trovare della giusta dimensione, dello giusto spessore qua. Quindi anche mettendo una toppa, comunque non c'è materiale dove andarla attaccare. Voglio dire, hanno fatto il loro dovere per tre anni, li ho indossati tre anni, sempre, perché se non faccio lavori di meccanica, faccio lavori a casa o in muratura, perché la villetta mi richiede sempre di fare questo tipo di lavori, e questi sono quelli che indosso sempre. Io mi alzo la mattina, come vedete anche oggi, dove non avevo previsto di fare lavori, perché sto poco bene, io mi alzo la mattina e metto questi. Se non metto questi perché sono a lavare, metto questi neri, che toccando la parte del cavallo, vedo che stanno facendo la stessa fine, perché sono i più vecchi. Questi qua sono molto comodi, perché li utilizzo anche per lavorare, quando faccio lavare le moto, che non sono sul ponte. Qui si possono mettere i cuscinetti, le ginocchiere. La tasca del cellulare ormai ha una misura obsoleta, perché qua ci entra solo il 3310, ma comunque il resto delle tasche le ho trovate sempre molto utili. Anche qui per appendere l'utensile, il trapano dal suo gancio di metallo, e anche il posteriore. Tasche col velcro, comunque pantaloni infatti con cognizione di causa. Stessa cosa sono questi qua. Pochissime differenze. Anche qui c'è la possibilità di mettere, anche che la tasca è al contrario, vedete da sotto, i cuscinetti per poter stare inginocchiato senza soffrire. Questo non ha le tasche velcrate, la chiusura velcrata delle tasche posteriori, va bene. Un modello molto bello, che vi consiglio di prendere, non appena lo trovate, è questo qua. Infatti, io poi sono riuscito a farne comprare altri due a mia moglie. Questo modello è spettacolare. Allora, questo qua lo vedete pulito perché io non lo uso per lavorare, o quantomeno l'abbigliamento, tutto l'abbigliamento che ho io per lavoro, comunque prima di arrivare a svolgere attività lavorative, lo indosso normalmente. Quando si comincia un po' a sporcare, a rovinare, a fare, lo passo nell'utilizzo lavoro. Questo anche con le magliettine, con i pantaloni vecchi. Prima li utilizzo per lo scopo corretto, e poi quando si rovinano, piuttosto che buttarli, li uso per lavoro. Questo ancora non l'ho utilizzato per lavoro. E la bellezza, la particolarità di questo pantalone è il fatto di avere la cerniera per poter togliere la parte di sotto, quindi trasformarli come pantaloncini, anche se in realtà, rispetto ai pantaloncini Parkside, poi sono un 5 cm più lunghi. la cosa bella di questo è che quando puoi aprire c'è pure il bordino per non farvi graffiare il ginocchio nella cerniera. Quindi c'è un bordino di tessuto che va oltre la cerniera e questo è un'ottima cosa. E poi qui, anche qui, la tasca è piccolissima, la tasca dello smartphone è piccolissima, e ce li ho sia di colore blu che è di colore grigio e questi erano uno dei modelli prodotti dalla Owim. Questo modello qua, ragazzi, se lo trovate e compratelo, e già se lo trovate e compratelo ne avete comprati 5, sembra un pantalone normale, dice, se non ha, se non avesse queste tasche così quasi non sembra un pantalone da lavoro. Ma è spettacolare, ragazzi, perché è la parte finale, guardate, parte finale con tessuto impermeabile in modo da non far assorbire l'acqua, magari dalle calzature bagnate, e far bagnare tutta la parte interna dei pantaloni. Dopo una trentina di centimetri parte il tessuto caldo, non so come chiamarlo, l'imbottitura, ecco, parte l'imbottitura. Questi pantaloni sono spettacolari, io li utilizzo per andare in moto quando devo prendere la moto la mattina alle 5, quando so che devo rientrare la sera alle 11 che fa parecchio freddo e in Sicilia ora e la sera ci sono 12-13 gradi, questi pantaloni mi evitano l'utilizzo della tutina termica, che peraltro è anche della Lidl e della Krivit. Spettacolari. E poi va bene, ragazzi, i pantaloncini, anche qui, differenza per quanto riguarda la vestibilità e la serie beige che era venduta insieme a una serie marrone stanno più stretti rispetto alla serie grigia e la serie nera. Sempre col 50 mi vestono bene, questi qua, ad esempio, sono sempre della O-Wim. Ho preso anche le Salopet, però di questo non vi so dire niente perché come vedete è ancora chiusa e non l'ho aperta. Anche queste sono della O-Wim. Poi va bene, ragazzi, bellissimo gilet abbinato ai pantaloni, smanicabile anche questo. Questo non è pesante come gilet perché quello pesante è questo. Sembro Giorgio Mastrota o un venditore di abbigliamento. Va bene, ma questi qua, anche questo gilet bello abbinato a questa colorazione e alla colorazione che purtroppo dovrò buttare sarebbe questo valore lo spettacolo. Roba bella, signori, roba bella! Va bene, ragazzi, non so se avete mai sentito questa frase noi in Sicilia la sentiamo spesso quando andiamo al mercato, alle bancarelle dove vendono i vestiti. Quindi, ragazzi, vi ripeto, l'unico consiglio e anche se conoscete la misura provateli perché la misura cambia da modello a modello. Sempre Parkside, sempre 50, non mi vestono tutti allo stesso modo. Vi posso dare solo questo consiglio e l'altro consiglio è don't try at home, non fate questo a casa vostra, cercate di tenere il controllo perché è vero a 10-12 euro a paia ma qua ci sono almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ci sono almeno 10 paia di pantaloni ed effettivamente la domanda è ma se compravi un paio di pantaloni della beta della USAG o di quelle ditte che fanno proprio abbigliamento da lavoro sicuramente ti durava molto di più di questo. È vero, ma non avrei avuto il pantalone grigio per la moto, il pantalone blu per il super tenere, il pantalone marrone per il giardinaggio, il pantalone beige per fare lavori di muratura, il pantalone felpato per andare in moto, il gilet, eccetera, eccetera. Quindi rapporto qualità-prezzo veramente eccezionale e se vi capita comprateli e il consiglio che vi ripeto per la terza volta la misura provatela. Va bene ragazzi spero di non avervi annoiato con tutte le stupidaggini che vi ho detto per quanto riguarda questa tipologia di abbigliamento Parkside e spero che comunque qualche informazione che vi ho dato vi tornerà utile quando dovete andare a comprarli. Però prima di salutarvi vi ricordo che ho creato su Facebook un gruppo che si chiama Super Offerte Fai Da Te è un gruppo dove pubblico periodicamente delle offerte per quanto riguarda il fai da te utenze di da lavoro e tutto quello che può servire al lobbista come me e come te. Quindi se vuoi risparmiare per i tuoi acquisti troverai il link in descrizione per andare al gruppo iscriviti. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!